Ciao a tutti! Oggi volevo presentarvi questi splendidi cornetti fatti con il metodo dei cornetti sfogliati francesi. Innanzitutto per fare questa ricetta ci vuole parecchio tempo io vi dico che ho iniziato la sera tardi cioè tardi verso le 11 a fare il lievitino ho aspettato che venisse a galla sull'acqua poi vedrete e poi ho fatto l'impasto alle 11 e mezza e ho finito ad impastare più o meno mezzanotte ho lasciato il composto in frigorifero tutta la notte la mattina dopo mi sono alzata verso... ho continuato a fare gli impasti verso le 9 più o meno e continuando a fare ogni piega ogni volta sono finita a cuocerli e li ho sfornati adesso che sono le 4 e 20 si sono raffreddati ho messo lo zucchero ve lo adesso quindi è un procedimento abbastanza lungo e non è semplicissimo io è la seconda volta che li faccio e sicuramente mi sono venuti meglio della prima volta però ad esempio li ho fatti un po troppo grandi come potete vedere sono un po grandini voi se riuscite magari fateli più piccoli sono più carini più presentabili sono meglio ho fatto anche una piccola treccina e pian piano comunque che si fanno si migliora sicuramente al primo colpo non possono venire perfetti scusate se all'inizio del video magari parlo a voce bassa o comunque sia se nel corso del video cambiano le luci perché appunto li ho registrati ho registrato il video la sera tardi e poi la mattina presto e quindi le luci ovviamente cambiano e oggi vorrei farvi vedere che ho tagliato la treccia non so se riesco a farvi vedere l'interno e io spero che la ricetta vi sia piaciuta se provate a farla fatemi sapere se avete dei dubbi fatemi sapere lo stesso e ho preso questa ricetta sempre qui su youtube da un canale che si chiama credo viva la focaccia qualcosa del genere comunque sia è un canale fantastico dove ci sono delle ricette bellissime e io spero che questa ricetta vi sia piaciuta ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti oggi andrò a realizzare i cornetti sfogliati simili a quelli francesi quei cornetti che praticamente hanno la sfogliatura e bisogna fare le pieghe poi più avanti nella ricetta vi spiegherò passo passo come fare la prima cosa che faccio ora vi scrivo gli ingredienti dobbiamo appunto preparare il lievitino e il lievitino lo prepariamo prendendo l'acqua a 30 gradi e il lievito secco oppure voi potete prendere anche il lievito di birra lo metto nell'acqua e lo faccio sciogliere ho trasferito l'acqua con il lievito sciolto all'interno della ciotola della planetaria la vado ad azionare e inserisco all'interno man mano tutta la farina la vado ad azionare e inserisco all'interno della ciotola 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 la ciotola della 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 l'impasto è molto molto duro e se non riesce la planetaria ad incorporare bene il tutto dobbiamo farlo a mano l'impasto è molto duro ma ripeto, dobbiamo lavorarlo bene e farlo diventare liscio e omogeneo dopo aver formato la pallina con l'impasto prendiamo dell'acqua che deve essere la temperatura di 35 gradi in questo caso è 34,9-34,8 quindi va benissimo e ci immergiamo la pallina quando l'impasto viene a galla è pronto e si può utilizzare per l'altro impasto che ora vi farò vedere vedete che pian piano il lievitino sta venendo in superficie questo perché i batteri che contiene il lievito generano anidrite carbonica, fanno venire il lievito in superficie quindi sarà pronto per l'utilizzo che c'è lo scopo, il lievito cioè lievitare gli impasti vi faccio vedere che il lievitino è venuto completamente a galla e ora andremo a preparare il secondo impasto con tutti questi ingredienti allora andiamo ho messo la farina qua nella ciotola della planetaria e la mescolo con lo zucchero il miele allora andiamo ho messo la farina qua E ora metto gli aromi, io in questo caso metto un po' di vaniglia e l'aroma all'arancia. Voi volendo potete mettere tutta vaniglia o arancia al limone, quello che volete. Ora aggiungo il latte sempre mescolando. Le uova una alla volta. Guardate, ho tirato fuori il lievito. Dall'acqua, perfetto. Ora lo strizzo, come si dice, tutta la sua acqua e poi lo metto all'interno della planetaria. Quando l'impasto si stacca un po' dalle pareti aggiungo il sale. Ora che l'impasto è così morbido, ho pesato il burro, ammorbidito mi raccomando, e vado a mettere il burro sempre girando con la planetaria, pochi pezzi alla volta e pezzi piccoli. Nel frattempo ho visto che la frusta non riuscirò più ad amalgamare bene l'impasto, quindi ho cambiato e ho messo il cancio della planetaria. Vi faccio vedere come si è sviluppato il glutine. non so se si può vedere, vedete com'è elastica? guardate qua. Guerminato Grazie a tutti Ora lo stendo rettangolare Ho messo l'impasto su un vassoio con della carta forno sotto Sopra metterò della pellicola e poi lo metterò in frigo Deve essere ben preciso In frigo per 4-12 ore Io lo lascerò tutta la notte quindi 10-12 ore Allora adesso dobbiamo preparare il burro da mettere all'interno del panetto di sfoglia E dovevamo prendere in realtà la pellicola è meglio Però io non ce l'ho purtroppo quindi prendo la carta forno 375 grammi di burro li ho disposti più o meno in maniera uguale Ora metto questo sopra e cerco di dare una forma al burro il più rettangolare possibile Ho preparato il panetto Ora lo lascio in frigo e poi ci vediamo domani mattina per fare la prima piega Ciao a tutti È mattina Sono passate 11 ore Infatti c'è una luce diversa Anche la mia voce è diversa Ora prendiamo la pasta e la mettiamo sul piano Bella fresca perché è stata in frigo Ciao a tutti Ciao a tutti Dobbiamo far combaciare bene la pasta con il burro E poi pieghiamo Poi la giriamo Deve essere circa 50 cm per 20-24 cm E ora faccio la piega a tre Piego così E questo lo piego sopra Ecco la piega a tre Se si vede E la metto in frigo per 30-60 minuti Siamo pronti per fare la seconda piega Mettiamo la pasta Mettiamo la pasta di ruota in questo modo E la stendiamo 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 E mettiamo la pasta di nuovo in frigo ripero Per 30-60 minuti Terza e ultima piega Mettiamo la pasta di ruota uguale alle precedenti Mettiamo di nuovo in frigo per 30-60 minuti E questa era l'ultima piega Ora che la terza piega ha riposato Andiamo a stendere l'impasto Dobbiamo sempre tenerlo rettangolare E la stendere l'impasto Giriamo ogni tanto l'impasto In modo che non si attacchi al piano di lavoro E poi siccome il mio piano di lavoro è abbastanza piccolo Io vado a tagliare Prendo la rotella Vado a tagliare in due l'impasto Anche per vedere bene Se è stata seguita la sfogliatura Ora vi faccio vedere più da vicino Come vedete ci sono vari strati di burro Non so se si vede bene Vedete questi sono gli strati del burro Quindi vado a stendere questo impasto qua Ora vi faccio la sfogliatura Una volta stesa La vado a tagliare a metà Ora vi faccio la sfogliatura Ora vi faccio la sfogliatura E sulle rispettive metà Faccio i cornetti E sulle rispettive metà Ora prendo la nutella Ne metto un poca al centro E poi li chiudo Allungo un po' la punta Allungo un po' la punta E poi faccio la sfogliatura Allungo un po' la punta Allungo un po' la punta allora facciamo così i cornetti che non vogliamo cuocere subito li mettiamo subito su una teglia e subito in congelatore li teniamo in congelatore per un po' per circa 2-3 ore quando si sono ben congelati li mettiamo nel sacchetto e li lasciamo sempre in congelatore finché non vogliamo consumarli invece ne ho presi 3 con la nutella poi andrò a fare quelli con la marmellata e questi andrò a cuocerli quindi il procedimento sarà di metterli nel forno spento con la luce accesa a lievitare 2-3 ore e poi saranno pronti per essere cotti eccole qua sono lievitate come vedete tantissimo e ora le metto in forno dopo 2-3 ore scusate le metto in forno a 150 per 10-15 minuti eccoli sono usciti dal forno e li ho messi su una grata rialzata per farli asciugare per bene sono morbidissimi sono cresciuti tantissimo guardate questo quanto è grande rispetto alla mia mano e ora li lascerò raffreddare e metterò dello zucchero a velo sopra grazie a tutti